l'Islande Vivatun è il sabato 12 marzo, il 12 marzo abbiamo un gruppo, un grande gruppo di skiers con i bambini, ski joggers abbiamo un buon gruppo di sciatori con i miei studenti di l'Islande Slado Club per i miei allievi del Slado Club Islandese ora potete vedere tutti ora li vedete tutti guardate il paesaggio stupendo guardate il paesaggio stupendo guardate il paesaggio qui questi sono tutti allievi questi sono tutti studenti all over il paese in l'Islande Reykjavik, Akureyri tu vieni da tutto ok, Akureyri hafferti portare borgannese molti paesi guardate oggi è bella oggi Akureyri dove è Akureyri? qui 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 eccoci qua Islanda questo è il gruppo dei nostri studenti sono orgoglioso di loro sono molto orgoglioso di loro Mr. Aaron Franklin Johnson guidando i ski joggers sta guidando i ski joggers fuori nella strada per aiutare che gli scii si rompano per evitare i ski che si rompano quindi questo è Arad vi saluto da Islanda il saluto dall'Islanda sabato 12 marzo 2011 saturday 12 marzo 2011 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 14 15 15 15